Ciao cari bambini, cari ragazzi, il Vangelo di domenica prossima ci parla della figura di Giovanni il Battista. Noi ci stiamo preparando a questa venuta del Signore, infatti stiamo celebrando il tempo dell'Avvento e Giovanni il Battista durante la sua missione ha voluto preparare le persone perché potessero essere attente, pronte per ricevere, per accogliere, per credere in Gesù. Infatti lui predicava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, dice il Vangelo di oggi. Questo significa che il Signore e la Chiesa a nome del Signore ci vuole aiutare perché possiamo essere pronti a vivere il Natale ma pronti anche ad approfittare delle occasioni di cose belle che possiamo vivere. Ma abbiamo bisogno di accettare che Gesù vuole fare le nostre cose più belle e quindi in parte anche cambiarle. Se Gesù nel Vangelo ci chiede di cambiare certe nostre abitudini, ci parla di generosità, pazienza, ma non è perché ci vuole fare essere più affaticati, è perché così saremo più contenti. E se a volte non andiamo tanto d'accordo o stiamo a ripensare a delle cose brutte del passato, il Signore ci vuole aiutare a essere riconciliati, ci vuole aiutare a sentirci perdonati e a perdonare. E allora noi vogliamo ringraziare il Signore perché attraverso il tempo dell'Avvento vuole renderci pieni di speranza e attraverso questa conversione, questo cambiamento che lui vuole fare nel nostro cuore ci farà essere più contenti, ci farà avere nel nostro cuore ancora più speranza e certezza di avere tante cose belle perché il Signore ci vuole è un bene infinito.